La shock uomini e donne, Giorgio e Gemma vanno a vivere insieme, bufala o verità?. Giorgio e Gemma di uomini e donne vanno a vivere insieme e si amano ancora. Questa è la notizia che sta facendo impazzire i fan del Tron Rover che, increduli, non riescono a capire se si tratti di una bufala o meno. Che cosa sta succedendo realmente?. Giorgio e Gemma di uomini e donne vanno a vivere insieme, la news shock. Qualche giorno fa, un noto settimanale italiano ha pubblicato una notizia che ha fatto il giro del web. Sconvolgendo i fan così come i detrattori dell'ex, o forse no, copia formata da Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Stando alle indiscrezioni della testata, i due si amerebbero ancora e addirittura starebbero cercando una casa dove poter vivere insieme. Molto strano, dal momento che in televisione stiamo vedendo tutt'altro. Giorgio infatti continua a conoscere altre dame, seppur senza trovare la donna capace di farlo volare per davvero, mentre Gemma ha intrapreso una nuova, travolgente love story con Marco, un conturbante cavaliere che aspetta da un anno di poterla corteggiare. Marco, fascinoso uomo di mezza età dallo sguardo ammaliante, pare fare sul serio. Nell'ultima esterna, ha letteralmente travolto Gemma con un bacio appassionato, stupendo la Galgani in primis e ma anche lo studio. Sembra quindi poco probabile che la dama torinese e Giorgio si amino ancora e che si frequentino fuori dal programma. Dando inoltre un'occhiata al profilo Instagram di Gemma, la dama appare sempre da sola e non fa alcun riferimento alla sua ex Fiamma Giorgio. Anticipazioni uomini e donne, Gemma e Marco usciranno dal programma?. Marco è uno dei corteggiatori di Gemma che più sembra convinto di volerla portare davvero nella sua vita. Il cavaliere la cerca, la coccola, le dedica le attenzioni che la Galgani ha così disperatamente chiesto ai suoi ex. . Vedendo l'esterna in riva al mare, ciò che traspare è un romanticismo assoluto, forse quello che mancava a Gemma per decidere di uscire dal programma che l'ha vista protagonista per molti anni. anni nei quali ha lottato e sofferto, cercando di rincorrere l'amore vero. . Prima Ennio, poi Remo e quegli otto mesi di passione intensa con Giorgio, finiti con suo grande dispiacere. Marco Firpo era riuscito a farle battere di nuovo il cuore, sebbene per poco tempo. . I fan della bionda torinese si augurano che quella con Marco sia la svolta decisiva per il percorso amoroso, e piuttosto tormentato, di Gemma Galgani. . Chissà che poi la primavera e la sua atmosfera magica non ci metta dei suo. .